Ciao, sono Claudio e benvenuti alla mia vista di scanturo. Le macchine che correranno sono queste, Fargo, Straso e Juve. Le mie scanturo hanno le più verità e i cabbili. Si accende il quadro per muovere le lucine, poi si passa questa, e lascia quella rossa, poi quella blu, e si mettono tutti e due. La scena blu e la scena rossa. Premo! Premo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Che arrivano i momenti alla coppa di scanto gol